L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo si rivolge ai cittadini dell'intero territorio. State attenti, fate attenzione. Qual è il motivo di questo appello? Sì, bisogna porre attenzione a dei comportamenti anomali da parte dei professionisti. Sono state segnalate, in tal senso c'è stato un intervento già immediato da parte dell'Ordine, segnalando agli organi di competenza affinché intervengano nello specifico. Chiediamo ai cittadini attraverso questa nota, attraverso voi, vi ringraziamo per questo mezzo di comunicazione, c'è la possibilità di trasmettere queste informazioni, affinché vigilano nel contesto e se hanno bisogno di capire se quel comportamento è corretto oppure no, possono rivolgersi all'Ordine allo 0861 247688 oppure c'è un'email di riferimento sisma2016-ingegneriteramo.it Insomma, delle imprese si avvicinano alle famiglie in difficoltà perché appunto il loro appartamento è inagibile e fanno promesse, fanno proposte. Cosa è che non va? Perché bisogna stare attenti? Per esempio qualcuno si presenta garantendo prestazioni gratuite a fronte di impegni successivi, è vietato per norma. Qualche altro professionista si presenta insieme all'impresa garantendo un pacchetto chiuso già pronto e da consumare all'uso? Non va bene perché rapporti professionali, rapporti imprese sono rapporti nettamente distinti e viaggiano su strade completamente diverse anche se poi si incontrano e la qualità dell'uno e dell'altro porta un ottimo risultato. Oppure professionisti che si presentano facendo firmare delle convenzioni, facendo assumere delle responsabilità al committente, il quale non ne conosce i problemi che ci stanno. Non esiste convenzione, al momento non c'è nessun tipo di convenzione anche perché la scelta dei professionisti avviene all'interno di una lista ben precisa dove ci sono dei requisiti di ordine tecnico e morale da rispettare.